L'ingresso di aria relativamente fredda di origine continentale determina nuvolosità sparsa sul Vicentino con occasionali deboli fenomeni lungo la fascia prealpina, nevosi fino a bassa quota. Venerdì la mattina nubi irregolari su tutto il Vicentino, tra pomeriggio e sera un aumento della copertura nuvolosa sulle prealpi e sulle pedemontane, rischio di fioccate oltre 500 metri. Sabato cielo poco nuvoloso in pianura, saranno più presenti le nuvole sulla fascia prealpina senza precipitazioni di rilievo, freddo pungenti percorrenti da est. Domenica inizialmente cielo sul Vicentino poco nuvoloso, la metà giornata nubi compatte arriveranno dal Veneto orientale per coprire nel pomeriggio tutto il territorio, non si esclude qualche fiocco sui rilievi. Tendenza nel lungo termine e anche per la prima parte della prossima settimana avremo correnti tese da est con possibilità di deboli impulsi perturbati, fioccate e fine sulle pianura, clima rigido per il periodo che potrebbe continuare fino a metà mese.